Il servizio di scuolabus lunedì 19 settembre riprenderà regolarmente dopo che centinaia e centinaia di ragazzi a Fano e in tutta la provincia sono rimasti appiedati perché nessuno è passato a raccogliergli agli stalli soliti. Una situazione che ha messo in agitazione famiglie e genitori che anche oggi e domani hanno dovuto tamponare una situazione non prevista con non pochi disagi. Il comune ed i servizi educativi parte l'ESA in questa vicenda stamattina ha incontrato i vertici della società Tundo di Lecce, vincitrice della gara d'appalto per il trasporto scolastico provinciale. L'assessore Mascarin ci spiega l'esito di questo incontro. Questa mattina abbiamo incontrato i dirigenti della ditta Tundo insieme al dirigente di servizi educativi Grazia Mosciatti e il capo di gabinetto del sindaco Dottor Cellani. Abbiamo ovviamente presentato la nostra protesta forte per i disagi che ci sono stati ieri e ovviamente abbiamo fatto presente la ditta che ci riserviamo come già annunciato di chiedere i danni per quello che è stato il disagio che ha portato le famiglie, gli utenti ma anche l'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto conto dei motivi che hanno prodotto questo disagio e il mancato avvio del servizio di scuolabus e abbiamo richiesto tutta una serie di documentazioni come garanzia a che la partenza lunedì 19 possa essere piena e assolutamente serena per i bambini e per le famiglie. Abbiamo avuto da questo punto di vista delle rassicurazioni importanti da parte della ditta e da questo punto di vista ci teniamo insomma a confermare che lunedì 19 il servizio partirà regolarmente. Abbiamo avvisato la ditta perché comunque lunedì mattina sia io che la dirigente dei servizi educativi che i funzionari dei servizi educativi saremo anche noi distribuiti in diversi stalli in attesa insieme ai bambini degli scuolabus per controllare di persona il rispetto degli orari, dei percorsi e della qualità del servizio. Cosa hanno detto? Perché non hanno erogato il servizio per il quale loro avevano avuto l'appanto? Problemi di carattere organizzativo e logistico che hanno riguardato anche il reperimento di uomini e mezzi legati anche a un passaggio di per sé già delicato che è quello dall'azienda che precedentemente gestiva il trasporto scolastico, la nuova azienda appunto Lottundo che è la giudicatrice della gara provinciale per il trasporto scolastico che riguarda anche il territorio del comune di Fano.